Eccoci, novità 2023 di casa Trabuco, la nuovissima Cassiopeia NXT con un nuovo carbonio CXN ancora più performante, disponibili nelle versioni 160, 200, 250 grammi, nelle lunghezze 4,20 e 4,50 vetta tubolare, ibrida, molto sensibile e un nuovo twist free che limita ancora di più le torsioni della canna in fase di caricamento veramente un piacere utilizzarle, ottima la risposta nel lancio e la sensibilità in pesca grazie 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 grazie